A cinque anni dalla scomparsa di Marco Pannella, sconfitto dalla malattia dopo aver combattuto mille battaglie sui diritti civili nella sua città natale Teramo, una delegazione del partito radicale in sua memoria ha deciso di far visita al carcere di Castrogno, come faceva frequentemente Pannella, per rilanciare una delle battaglie a cui il leader teneva più a cuore, e cioè quella sui diritti e la dignità dei detenuti. Marco amava la sua città e fin da piccolo ha dimostrato la sua sensibilità nei confronti degli ultimi, ci sono dei suoi ricordi in cui lui mandava sempre uno sguardo al carcere che allora era dentro la città, adesso è lontano, è qui in contrada Castrogno, ma tante volte lui è venuto qui, alcune volte siamo venuti insieme a visitare il carcere, aveva una sensibilità per tutte le minoranze. Marco ci ha chiesto poco prima di andarsene di fare della sua assenza una presenza. E noi con Sergio Delì, Elisabetta Zamparutti, il partito radicale abbiamo continuato le sue lotte, le sue lotte per una giustizia giusta, le sue lotte per un carcere che corrispondesse ai dettami costituzionali, cosa che oggi non è, è necessario diminuire la popolazione detenuta. Questo carcere continua ad essere un carcere sovraffollato e tutta la comunità penitenziaria ha molto sofferto in questo anno del Covid. Le lettere che ci arrivano dai detenuti e dai loro familiari sono le lettere di chi non ha potuto più riabbracciare i propri figli piccoli, le proprie mogli, i propri padri. Speriamo quello che stiamo cercando anche con un contatto diretto con la ministra Cartabia, che abbiamo incontrato pochi giorni fa, è quello di tornare alla Costituzione e di tornare anche alla normalità. Pensate, i detenuti se hanno una cosa perché non hanno più niente, sono privi della libertà, è la televisione e in televisione vedono che la vita riprende e allora loro seppure privati della libertà vorrebbero almeno tornare ad abbracciare i propri cari.